Se il 2014 è ricordato come l'anno record per il numero di sbarchi, il 2015 ha di fatto seguito un trend simile. Anche se è diminuita leggermente la rotta mediterranea, il fenomeno ha interessato in misura crescente i paesi balcanici e molti paesi dell'Europa centrale. La Fondazione Leone Moressa, con il contributo di Open Society Foundation, ha analizzato gli elementi principali del sistema italiano di accoglienza, confrontandolo con alcune buone pratiche riscontrate in Europa. Lo studio presentato al Ministero dell'Interno intende fornire una panoramica della situazione attuale dell'accoglienza, offrendo spunti di riflessione utili a livello nazionale e locale. Secondo Frontex, gli ingressi regolari in Europa nel 2015 sono stati oltre 1,5 milioni, 5 volte di più rispetto ai 280 mila del 2014. La rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia ha visto un leggero calo, mentre sono aumentate in maniera impressionante le rotte del Mediterraneo orientale verso la Grecia da 50 mila a 720 mila e dei Balcani occidentali verso l'Ungheria da 43 mila a 667 mila. Dai primi dati del 2015, per la prima volta, il numero di migranti presenti nelle strutture italiane ha superato quota 100 mila. Di questi, oltre il 70% si trova in strutture temporanee. Il sistema SPRAR, gestito direttamente dai comuni e considerato il modello più efficace, si ferma al 20% delle presenze. A livello territoriale, un quarto dei migranti è concentrato in due soli regioni, Lombardia e Sicilia. Per quanto riguarda le richieste di asilo, nei primi dieci mesi dell'anno si è superata quota un milione, il doppio rispetto allo stesso periodo 2014. Il 62% delle richieste si è registrato in Germania, Ungheria e Svezia, paesi che hanno accolto 75% dei siriani richiedenti asilo. L'Italia è al quarto posto per richieste d'asilo, ma con una bassa percentuale di siriani.